Oggi c'è RadioRomalibera.org, la prima emittente di podcast 14 in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org Cari amici, Svelata vi riporta in Gran Bretagna per l'ennesima vicenda, questa volta un po' più piacevole, che ci riporta ai fatti di Rotterdam. E non poteva che essere Andrew Norfolk a dare per primo la notizia della cancellazione della Just Yorkshire, uno dei più noti enti benefici della Gran Bretagna. La Charity Commission for England e Wales, infatti, l'ente governativo che risponde direttamente al Parlamento inglese e che regola le organizzazioni benefiche, nelle scorse ore ha di fatto bandito l'esistenza dell'ente caritativo che più di altri negli ultimi anni ha determinato il destino di alcune politiche, oltre che di qualche vita, in particolare di una, anche se poi la Just Yorkshire, poco prima di ricevere l'onta pubblica, si è autosospesa. L'organizzazione che si occupava di diritti umani, questioni razziali e antiterrorismo, si è legata inspiegabilmente e improvvisamente a Sarah Champion, ai fatti di Rotterdam, alle bande di Pakistani e inevitabilmente a Andrew Norfolk, il giornalista inglese che ha scoperto per primo e seguito da vicino lo scandalo degli abusi sessuali ai danni di migliaia di bambini e ragazzine lungo e largo l'Inghilterra per mano di gang islamiche e che, per il semplice fatto di aver scoperchiato l'immenso e crudelissimo vaso di Pandora degli abusi sessuali islamici ai danni di ragazzine bianche, ha subito processi mediatici e censure che non si augurerebbero neanche al peggior nemico. E quando infatti il deputato laborista Sarah Champion, ministro Umbra delle pari opportunità del governo di opposizione Corben, nell'estate del 2017 scrisse un lungo editoriale in prima pagina sul The Sun per denunciare il grave problema che affligge ancora oggi l'Inghilterra da anni, ovvero le bande di pakistani, lo spettro dell'islamofobia si è animato per scatenare un putiferio. L'allusione dell'ex parlamentare ovviamente fu alle gang islamiche che la stampa internazionale e spesso anche quella inglese hanno ribatteggiato sempre come asiatiche per non dare troppi dettagli sull'origine di queste gang e sul nome di chi agissero e che non solo per 15 anni hanno agito indisturbate mentre la società inglese tra enti di governo e autorità varie insabbiavano i fatti di Rotterdam che poi si sono trasferite in tante altre città ma ha aperto e che hanno aperto la caccia alle ragazzine bianche che di fatto ha continuato ad agire indisturbata in tutti questi anni nonostante questo scandalo di dimensioni planetarie e terribile. L'Inghilterra ha un problema con i pakistani che violentano e sfruttano ragazzine bianche l'ho detto. Ciò mi rende una razzista o semplicemente una che è disposta a dare un nome al problema per quello che è? Fu l'incipit dell'articolo che costò a Sarah Champion il posto in Parlamento e tanti altri problemi personali una denuncia pesante come un macigno per un paese che per oltre 15 anni, lo ripetiamo, non sarà mai abbastanza, ha insabbiato i fatti di Rotterdam e che a distanza di anni ancora non è riuscito a liberarsi di questo scandalo che continua in perterrito in nome del multiculturalismo e del terrore di essere tacciati di islamofobia. Ma Sarah Champion non solo venne accompagnata alla porta dall'allora leader del partito laborista Corbin, praticamente il giorno dopo l'uscita di quell'articolo, le pubblicazioni di quell'articolo, ma divenne anche oggetto di un lungo e astioso rapporto firmato proprio dalla Jazz Yorkshire. L'ente benefico nel suo rapporto, pubblicato diversi mesi dopo, mise letteralmente alla Berlina l'ex deputata che aveva denunciato un problema che in Gran Italia non passa. Anche perché la donna aveva toccato con mano il dramma, prima di essere eletta aveva lavorato in un ricovero per bambini nella Rotterdam degli abusi sessuali targati islam. Aveva visto, aveva ascoltato, aveva capito quello che era successo e quello che continuava a succedere. Quello rapporto però spudorato puntò troppi riflettori sull'ente benefico, fu un'autodenuncia di un'esistenza che fino a quel momento era passata piuttosto in sordina e la charity commission fu costretta ad aprire un fascicolo per le troppe anomalie che emergevano da un rapporto feroce e crudele che prendeva di mira in particolare la Sarah Champion. A distanza di due anni dalle indagini è stato rivelato un enorme conflitto di interessi, pagamenti non anteriorizzati dai fondi dell'ente, circa 6.000 sterline a un fiduciario per lavorare all'incriminato rapporto e poi tutto incentrato sul pericolo di razzismo e in particolare sull'islamofobia, il dossier accusava l'ex parlamentare laborista di abusi razzisti contro la comunità pakistana, una sorta di Sarah Champions che perseguita le gang dislamici che vanno a caccia di bambine. Era questo che sosteneva il rapporto. E a corredo della tesi l'associazione diffuse anche un sondaggio online che evidenziava proprio come l'articolo della Champions avesse portato ad un aumento dell'abuso razzista, sia verbale che fisico in tutto il Regno Unito. Ma proprio quel sondaggio fece rizzare le antenne alla commissione governativa insospettita sul come erano state condotte le indagini, metodi poco trasparenti sul modo di ottenere informazione, conclusioni raggiunte su sole 36 interviste in tutto il paese. Un rapporto che arrivò persino a collegare l'editoriale della Champions a due omicidi a sfondo razziale nel paese, ma senza alcun fondamento nei dettagli sulle vicende. Qualcosa che per anni ha letteralmente rovinato la vita di Sarah Champions costretta anche ad una scorta notte e giorno. Niente di quello che la Jazz Yorkshire aveva prodotto corrispondeva o corrisponde a verità. Era stata anzi un'operazione di linciaggio mediatico menzognera costata all'ex deputata davvero troppo. A settembre la commissione di governo aveva già fatto notificare il primo avvertimento relativo a tutte le irregolarità riscontrate, ma a dicembre il sedicente ente per l'antirazzismo continuava a scagliarsi brutalmente servendosi dei suoi canali social proprio contro la Champions, il The Times, il suo giornalista Norfolk che hanno seguito al primo momento tutta la vicenda. Eppure a un certo punto si sono dovuti arrendere alla realtà e accorgersi di averla fatta troppo grossa e prima che l'ente di governo che si occupa delle varie ONG e Ollus decretasse il funerale della Jazz Yorkshire con le conclusioni sopra riportate, nel silenzio generale e in indifferenza di un problema che non ha interessato troppo gli altri quotidiani inglesi, la Jazz Yorkshire chiudeva i battenti ufficiosamente da sé. È ormai certa che quello scandalo sarebbe successo e che quella notifica sarebbe arrivata da un giorno all'altro. L'ex presidente dell'ente benefico Nadine Murtugia che nel 2017 aveva accusato personalmente la Champions di condotta al confine con il razzismo su scala industriale e che ha firmato personalmente quel rapporto è adesso direttore esecutivo della comunità del Consiglio Comunale di Oxford. Ce lo dice il The Times, Oxford è un'altra delle tantissime città inglesi che hanno subito la persecuzione delle bande islamiche contro le ragazzine bianche. Oggi l'ex presidente ha dichiarato di accettare la decisione della Charity Commission ma di essere certo del fatto che il loro rapporto benefico sia stato malinterpretato. quanto emerso in queste ore sostanzialmente si commenta da sì. Ha di sicuro di non poco sollevato la Champions ma che ha espresso gioia per la fine di un brutto capitolo ma resta un brutto precedente che racconta quanto può costare la denuncia dell'islamizzazione del paese nella vita di uomini e donne che vorrebbero essere liberi. Oggi c'è RadioRomaLibera.org la prima emittente di podcast 14 in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org.